Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cosa ne pensate di La rubrica in cui diciamo cosa ne pensiamo di F G H Si Ad ogni modo in basso potete Continuare a suggerirci le cose Di cui Di cui pensare perché sennò noi non pensiamo Di cui pensare Veramente hai detto di cui pensare Di cui improprio se stesso articolo determinativo Manfredi Calabro cosa ne pensate Di clash of clans e del Merchandising scritto con Merchandising senza H Che si sta creando Attorno a questo gioco Allora prima Di dirti cosa ne penso di clash of clans Vorrei consultare il mio Spippolante collega che di sicuro se ne intende Più di me di questi giochi dove non si gioca Qual è il gameplay di clash of clans In realtà Si gioca Cioè in realtà si gioca questo è da dirlo Si gioca Però Ci devi perdere un po' la vita Nel senso che Devo dire la verità Per i nostri amici sopra i 6 anni che non conoscono clash of clans Devo dire la verità Allora io ho scaricato clash of clans Ma non l'ho mai Aperto Cioè ce l'ho sul cellulare Ma non l'ho mai aperto Per paura di non rimanerci sotto Perchè è già successo che giochi di questo tipo Mi abbiano portato a una grave dipendenza Tipo il profondissimo dragon city Giusto? Tipo il profondissimo dragon Io me lo ricordo dragon city Ci ho giocato ben 3-4 ore Ad ogni modo ci sono questi giochi che Ti catturano e per i quali Devi alzarti di notte perchè magari Ti senti che ti stanno attaccare Ti arriva la notifica E tu giustamente devi nascondere le risorse Perchè sennò te le ingulano tutte quante sti bastardi no? Allora che fai? Ti alzi la notte E tua moglie che fa? Ti fa dormire nell'altra stanza Quindi ho smesso di giocare a questi giochi qua Che cosa ha che non va clash of clans? Diciamo che cosa ha che va E' un gioco in cui incontri tanta gente Che ti intrattiene parecchio Perchè comunque ha bisogno di un Un continuo spippolamento Come diresti tu no? E quindi devi costruire le risorse Devi farti la tua base Devi curare i tuoi soldati Quindi è una cosa che ti intrattiene In qualche modo I negativi ci sono E sono tanti Si Nel senso che arriverai a un certo punto In cui non ti basteranno più le tue risorse E dovrai acquistare per forza di cose E quando succede questa cosa che hai perso Hai perso la vita Nei tempi antichi Nei tempi antichi questi erano definiti passatempi Oggi invece sono definiti Giochi Un gameplay che ha la stessa profondità Del masticare una radice di cocaina Più o meno Non si mastica la radice di cocaina Ma le foglie di coca Si ma le foglie poi ti fanno un effetto strano La radice invece ti fa andare di corpo Come un No veramente Però ragazzi veramente Il punto è che Perché Questi giochi Secondo me Secondo me E anche secondo Reddits Perché ci è stato sotto Influiscono un po' troppo Su quello che è l'equilibrio Dei tempi della tua vita Stessa cosa Un gioco come magari World of Warcraft Voi dite No vabbè ma tu giochi quanto vuoi Si ma se sei in un gruppo E il gruppo cresce in un certo modo Tu devi stare al passo con il tuo gruppo Altrimenti resti indietro Questa disparità che si va a creare Non è creata dalla vostra abilità È creata unicamente dal fattore tempo Più tempo passate sul gioco Più crescete E per non restare indietro Ci passate tante ore Magari più degli altri Se volete crescere più di loro È una gara a chi occupa la sua vita In modo più errato Si e non stiamo dicendo che sia brutto O sia bello Stiamo dicendo che ci sono dei tempi Purtroppo da rispettare E su Clash of Clans Sono tanti tempi da rispettare E purtroppo a differenza di un World of Warcraft In cui devi giocare per forza con un PC Questo te lo porterai sempre dietro Ce l'hai sempre a disposizione E quindi magari a pranzo sposti le risorse A cena sposti le risorse Di notte fai un attacco Mentre caghi rimetti a fare i soldati Perché sono morti nell'attacco precedente Cioè capite che sono tante cose Che vi vanno a rubare del tempo prezioso Si e la cosa effettivamente negativa È che ce l'abbiamo detto È un passatempo ok? Come ogni passatempo Va bene per occupare Quel momento in cui sei in fila le poste Quel momento in cui Non sai che cazzo fare Fuori piove Passo un'oretta con Clash of Clans Con Dragon City Quello che adesso A parte gli scherzi Come passatempo potrebbe essere molto carino Il punto è che non è un passatempo È un'attività a tempo pieno Perché se vuoi giocare Ti vuoi divertire Vuoi giocare bene Devi starci troppo tempo Voi direte Sì ma è lo stesso discorso Se devi fare sport Se vuoi vincere una competizione Devi allenarti tanto tempo Ma non c'è nessuno che si allena dalle 8 del mattino alle 8 la sera Che muore Se non muore Qui non c'è questo tipo di limitazione Perché è un gioco che non ti Non ti Non ti sfrutta Non ti stanca Puoi giocarci dalle 8 del mattino alle 8 la sera Veramente Ed è questa la pericolosità E il merchandise di tutta questa roba Si è creata Perché? Perché c'è un giro d'utenza pazzesco Se ci fate caso Negli store Clash of Clans È sempre l'attività O l'app più redditizia Fatevi due cazzi di conti Come fa ad essere sempre lì sopra? Evidentemente perché la gente shoppa E se shoppa Quella classifica ti porta sull'app Che ha nella settimana Preso più soldi E perché la gente shoppa? Per arrivare prima ad un risultato Quindi per risparmiare il suo tempo Hai il tuo tempo Vuoi risparmiarlo Per risparmiarlo devi pagare Questo gioco vi prende in ostaggio Voglio essere libero Voglio uscire stasera Eh devo pagare Devo pagare perché sennò rimango indietro È un ostaggio Sì o no? Quindi rispondiamo alla domanda Perché ci siamo Che si sta creando Il merchandise Ci aveva chiesto Noi siamo andati Il merchandise proviene dal fatto che ci gioca tanta gente Che è molto conosciuto E che perché Dio solo sa perché Perché io non lo so e non lo capirò mai Funziona su YouTube Che cazzo dovete vedere su un gameplay di quel tipo là? È vuoto Non c'è niente Non c'è storia Abbasso Clash of Clans su YouTube Veramente È molto meglio Minecraft Molto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti